Oh, sei ancora qui. Forse hai ingannato tutti gli altri, ma non me. Non parlarmi in questo modo! Ma cosa? Non puoi tirare qualche merda su di me? Non importa. Chiudi quella cazzo di bocca! Attenta a come parli! Scusami? Dovresti iniziare ad essere più gentile con me. Sapevo saresti stata una persona di me...